Strage Bar Golden di Lentini, il collaboratore di giustizia Vincenzo Piazza per motivi di salute non si presenta al processo. Si chiudono le maglie del processo che riguarda la strage del Bar Golden di Lentini nel quale lo scorso 22 aprile altri due collaboratori di giustizia, Ferdinando Maccarone e l'ex boss di Cosa Nostra etnea natale di Raimondo avevano testimoniato a carico del vecchio capomafia Sebastiano Nardo. Il padrino lentinese è accusato di essere il mandante dell'agguato al Bar Golden nel 1991. Un agguato in cui persero la vita oltre il bersaglio Salvatore San Basile anche Salvatore Motta e Cirino Catalano, due giovani innocenti. Una strage maturata con un triplice omicidio la quale ha trovato la strada giudiziaria grazie alla dichiarazione del pentito Francesco Squillaci detto Martedina che ha raccontato di avere partecipato a quella suezione di sangue e chiesta da Sebastiano Nardo ai catanesi per dare una lezione a San Basile che stava allargando i suoi affari illeciti in territori che secondo il capomafia appartenevano alla famiglia Nardo. I due pentiti nel corso della scorso di Enza che si era tenuta davanti alla corte dell'assiste di Siracusa avevano risposto alle domande del PM Rocco Liguori che aveva coordinato l'inchiestatore che aveva portato a rinvio a giudizio di Sebastiano Nardo. Il processo era stato poi rinviato al 4 maggio sul banco degli interrogatori un altro collaboratore di giustizia, un maresciallo della Rossa. Intanto nell'udienza di martedì scorso il collaboratore di giustizia Vincenzo Piazza non si è presentato davanti alla corte dell'assiste di Siracusa per motivi di salute cagionevole per il processo relativo alla strage del bar Golden di Lentini per cui è imputato il boss Nellonardo collegato in videoconferenza dal carcere di Sassari. Il test sarà sentito alla prossima di Enza insieme con Roberto Sipala l'uomo che si era accusato del triplice omicidio consumato nel primo pomeriggio del 10 aprile 1991 e per tale motivo ha scontato una lunga pena detentiva. Martedì l'udienza si è svolta attorno all'esame del luogo tenente della prima sezione anticrimine dei carabinieri di Catania Attilio Pellegrino che prestò servizio per 38 anni in questo corpo speciale dell'arma. Il verbalizzante ha sostenuto di avere eseguito le indagini sulla base dei documenti e le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Francesco Squillaci che a suo dire era uno degli uomini di fiducia del boss Santa Paola. Le vittime si trovavano nel bar Salvatore San Basile e l'imprenditore Salvatore Motta che è deceduto nell'ospedale mentre Cirino Catalano si trovava fuori dal locale pubblico. Il luogo tenente ha riferito anche che le armi utilizzate dal comando erano pistole e fucile di cui non ha appreso la tipologia mentre i killer giunsero a Lentini provenienti da Catania a bordo di un Alfa 33 di colore verde che fu utilizzato a Catania per consumare altri omicidi tra questi l'uccisione di Rosario Indelicato detto Rambo avvenuto a Catania appena nove giorni prima della strage di Lentini. Adesso nella successiva udienza sarà esaminato Sipala mentre la difesa di Nardo assistito dagli avvocati Gian Battista Rizza e Carboni hanno chiesto di sentire il catanese Giuseppe Squillaci. Tutto rinviato per il 18 maggio prossimo.